ciao ciao a tutti oggi vi mostro cosa acquistato dal sito di doi tu vi avviso questo video secondo me sarà lunghissimo perché ho acquistato un bel po' di cosine tra cui filati resina coloranti perline gomitoli chi ne ha più ne metta comunque c'è un botto di roba qui davanti a me ho un po' esagerato credo credo un pelino comunque scusate se in questo video ci saranno tante ombre cioè sembrano le ombre quelle lì cinesi ciao amici come state perdonate anche la mia la mia pazzia comunque questo per dirvi perché scusatemi per le ombre ma qui c'è un tempo pessimo quindi ho acceso la lampada per forza quella artificiale quindi sto video sarà pieno zeppo di ombre non ci fate caso guardate i prodotti che ho scelto comunque il primo prodotto che ho acquistato è questa bobbina gigante di fettuccia questo è il logo il marchio della fettuccia è in colorazione nero mi sono resa conto che non acquisto mai fettucce oppure gomitoli nere quindi puntualmente quando mi serve la colorazione nera non ce l'ho mai e quindi ho visto questa bobbina gigante di 800 grammi e quindi me la sono presa e quindi da qui credo che realizzerò un po' di progettini quindi questo è il primo acquisto di questa marca voi già l'avete utilizzato già l'avete sperimentato questa marca come vi siete trovati se si come vi siete trovati niente scusate se parlo un po' macchinetta ho un po' di mal di testa quindi parlo un po' così scollegato ogni tanto poi ho preso anche questi due gomitoli di questo bellissimo colore un po' sparaflesciato in videocamera ma è una sorta di verde molto carino color pistacchio il marchio è sempre katia canada e questi sono esattamente 100 grammi per gomitolo sono molto morbidi anche se a 100% acrilico questo qui e non vedo l'ora di realizzare qualcosa anche con questo con questi gomitoli colore si è un po' particolare ma questi colori vividi così così accesi mi stanno bene quindi prossimamente credo che acquisterò anche qualche gomitolo di quel blu elettrico bello intenso perché blu elettrico mi sta divinamente l'ho scoperto da poco quindi adesso avrò tutto blu elettrico tra l'altro ho preso alcune cose anche su shein 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 come come si come si pronuncia non lo so comunque ho preso una felpa blu elettrica anche un cappellino blu elettrico quindi da quando ho scoperto che blu elettrico mi sta bene quindi blu elettrico comunque anche come mutanda quindi ho preso questi due gomitoli scusate io li vago sempre con mal di testa e nonno sono sempre pazza ci sta poco da fare poi ho preso questi altri due gomitoli sempre giganti questi sono i big merino cioè se questo verde è morbido questo color panna è una nuvola spufficiosa e morbidosa cioè starei ore a fare questo movimento ho acquistato i gomitoli solo per per maneggiarli questi sempre cate e big medino sono sempre 100 grammi per gomitolo infatti questi la composizione è esattamente 55 di lana vergine e 45 di acrilico e non vedo l'ora anche questi di realizzare che ne so un bel cappellino bello spaffi puffi come si dice comunque morbido caldoso ecco e quindi la duro ok niente la smetto di di toccare i gomitoli se no ho detto starei ore qui sono tipo antistress non so poi con i gomitoli ho preso questi cinque poi adesso passiamo alla resina per quanto riguarda la resina per la prima volta ho acquistato questa resina qui questa è la resina della reschimica ed esattamente la fill crystal e sono andata direttamente con la confezione da un chilo e sei perché dovevo fare un pochettino di dovevo acquistare un po' di resina perché mi stanno arrivando tanti stampi e quindi ho detto non devo evitare ne prendo la confezione quella più grande da un chilo e sei così la testo e vedo come mi trovo ovviamente questa qui è crystal e quindi questo qui è il tempo di catalisi e niente poi vi dirò come mi trovo perché al momento ne ho testata soltanto una cioè quella della resin pro che vedete appunto nei miei video di tutorial per quanto riguarda la resina e quindi niente il rapporto è sempre di 100 di A e 60 di B 10 a 6 e quindi credo che non troverò tante differenze poi c'è scritto anche che massimo è di 3 cm per quanto riguarda l'altezza per le colate e quindi niente la sperimenterò e vi dirò come mi trovo ovviamente nei vari video poi oltre alla resina di un chilo ho preso anche di un chilo e sei ho preso anche i coloranti sempre dall'ischimica già in passato avevo acquistato questi coloranti però erano quelli lì coprenti questi qui ne ho scelti 3 colorazioni sono appunto i colori per resina però effetto vetro c'è scritto qui questo nella colorazione appunto verde che è un verde spettacolare cioè questo ve lo mostro perché è davvero uno spettacolo cioè guardate qui che stupenda colorazione non vedo l'ora di sperimentare con questo colorante ed è appunto da questo effetto vetro quindi posso andare a creare varie gemmine cristallini varie appunto in resina poi ho acquistato anche questo qui che è in elaborazione fucsia sempre appunto reschimica aspettate che lo apro e questo stesso discorso sempre effetto vetro infatti quelli che avevo acquistato l'altra volta come dicevo ho acquistato il set da 4 dove c'è appunto il bianco il blu elettrico poi c'è il rosso e il rosso e l'altro colore qual'era? era l'ultimo qual'era? aspettate che devo fare un attimo mente locale rosso il giallo ecco sì il giallo quelli erano belli coprenti invece questi qui sono effetto vetro e non ho mai acquistato appunto questi colori quindi il verde il fucsia e l'ultimo invece è l'arancione ed eccolo qua questo è sempre il codice sul sito di 22.com e anche l'arancione credo che mi darà soddisfazioni sempre stesso discorso sempre effetto vetro poi più là credo che acquisterò anche quello viola ma al momento non era disponibile niente di là c'è Minetta che abbaia poi per quanto riguarda i coloranti erano quei tre e poi ho preso anche per andare a decorare la resina una volta che si è catalizzata per andare a fare qualche effetto particolare ho preso anche cinque colorazioni per quanto riguarda i pebeo ho preso questi pebeo sia prisma e fantasy e sia moon fantasy questo qui mi sembra che ne ho preso solo uno sì poi questi altri sono tutti quanti prisma e fantasy diciamo che l'effetto finale è questo qui che vedete appunto sulla disegnato appunto sulla boccetta questo è il numero 28 sono tutte questo credo che sia tipo una sorta di violetto solo che qui c'è scritto blush pink no bluish come si legge qua bluish io e l'inglese siamo due mondi paralleli comunque perdonate la pronuncia poi ho preso questo qui che è il 19 che è un pearl green tipo un perlato appunto verde poi ho preso il 39 che è il caribbean caribbean blu che è anche uno spettacolo guardate che bello che è questo colore poi il 18 ovviamente l'emerald non poteva mancare e infine ho preso lo sky blue il 36 questo pure è uno spettacolo e quindi questo non vedo l'ora di appunto utilizzarli ovviamente sulla resina catalizzata per andare a fare qualche effettino e quindi questi erano i 5 pepeo poi ho scelto anche questo cavetto di acciaio ed eccolo qua questo qui è un cavetto d'acciaio con colorazione grigio con 7 fili ed è esattamente la misura da 0.6 mm 0.6 mm e questo qui lo utilizzo per andare a realizzare vari braccialetti oppure andarlo a utilizzare come anima per quanto riguarda le varie spirali cellini oppure altri tipi di spirale a volte anche quello lì all'uncinetto per dare un'anima e una consistenza diversa alla lavorazione oppure semplicemente infilando le perdine su e poi realizzando di semplici braccialetti è molto consistente io questo qui di questo filo cavetto d'acciaio rivestito l'avevo preso in passato della marca Bidlon credo che si pronunci così solo che non era disponibile sul sito di Doi Tu era terminato e quindi ho preferito prendere questo qui che non ha marca però credo che è la stessa identica consistenza di quello lì che ho di là quindi niente ho preso questo qua sono un bel po' di metri sono esattamente 20 metri quindi a voglia fa e aspettate ecco qua l'ho agganciato e poi ho preso qualche perlina allora aspettate non l'ho agganciato bene quindi si è tutto vabbè lo avvolgo dopo dai lo appoggio qui sulla scrivania poi ho preso le perline come vi dicevo prima eccole qua qualche colorazione di qualche perlina che non ho mai preso ho preso queste qui che sono appunto le perline le drop duo ed eccole qua avete mai utilizzate le drop duo? io mai però sono molto carine come forma molto molto carine quindi l'ho scelta in qualche colorazione questa colorazione che vedete qui è la Cluck White Baby Blue Luster la dimensione è 3x6 mm sono davvero carinissime queste perline hanno sempre due fori sembrano dei piccoli petali sono davvero molto molto carine le ho scelte in questa colorazione poi la seconda colorazione è questa qui che è Jet Red Luster però di red c'è poco e niente perché è una sorta di verde molto molto intenso uno spettacolo questa colorazione poi le ho presi anche viola queste sono appunto le Cluck White Lilla Vega Luster e questa sorta di viola molto carine anche queste e poi ho preso anche quest'altra colorazione che sono appunto le Cluck White Teal Luster queste anche sono bellissime colorazione teal questa sorta di verdino turchisino e poi ho preso come perline per la prima volta queste qui che sono le Super 8 di queste ho preso solo questa bustina perché le altre colorazioni erano terminate e peccato perché è davvero una perlina molto carina molto piccola non me l'aspettavo così piccola pensavo che fosse all'incirca come una Super 2 invece è molto molto piccina però è graziosissima questa nella colorazione Cluck White Capri Gold Full la misura ovviamente era 2.2 per 4 mm cioè dovevo aspettarmela così piccola però non so il mio cervello il mio cervello se l'aspettava un po' più grandicella che ci volete fare? vabbè poi ho preso anche questi anellini in acciaio aperto questo qui sono da 6 mm in colorazione oro perché l'avevo terminato sono esattamente 50 pezzi poi ho preso questa confezione di mezzi cristalli tonni sfaccettati questi qui sono i baby blue luster da 4 mm i mezzi cristalli sono davvero stupendi questa colorazione è davvero molto molto bella molto molto bella e tra l'altro ci sta più o meno ci sta bene con con queste qui e infine ho preso queste due gocce svaroschi che adesso non si dice più svaroschi ma cristallo però io le chiamerò sempre svaroschi pearl e queste sono le shaper pendant colorazione ruby da 22 mm e sono stupende cioè questi mi farò sicuramente un bel paio di orecchini per natale perché sono un incanto belle 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 io adoro troppo la colorazione ruby e poi sempre il stesso discorso colori accesi colori vividi mi stanno divinamente invece ultimamente usavo solo questi colori colori smortini e anche l'incarnato sembrava morta da tre giorni invece se già indosso questi colori belli accesi luminosi ovviamente anche l'incarnato non sembro più morta ecco e quindi vi farò un bel paio di orecchini per natale sicuro perché sono davvero stupende niente ragazzi questi erano tutti gli acquisti fatti appunto dal sito di Deutoo scusate se il video è lunghissimo spero che questo video sia stato di vostro gradimento spero di avervi almeno stracciato un sorriso qualcosa con la mia pazzia io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuovi video ciao e suona anche la sveglia ciao 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 Grazie a tutti.